Ogni ufficina specializzata deve disporre di adeguata strumentazione di diagnosi elettronica multimarca per poter intervenire correttamente nelle fasi di manutenzione ordinaria e straordinaria di un motore marino. Anche le funzioni più elementari sono gestite e attivate dalle centraline elettroniche. Ora, grazie ad Axone Nemo e Navigator TXBE Evolution, strumenti studiati specificatamente per l'ambiente nautico, andremo a scoprire tutte le funzionalità del nostro motore Yamaha, utili non solo per la riparazione del motore, ma molto utili per fornire un'adeguata reportistica del lavoro svolto al cliente finale. Ora siamo pronti a connetterci al motore con la nostra interfaccia diagnostica TXBE. In questo caso non sarà necessario alimentare lo strumento dalla batteria del veicolo perché la presa è già autoalimentata. Ora, grazie al menu di selezione, andremo a selezionare il motore Yamaha F100 e sfrutteremo le potenzialità offerte direttamente da riconoscimento automatico del motore, cliccando sul tasto indicato. Così sarà molto più semplice intuitivo e veloce per l'operatore identificare l'esatto motore che si vorrà andare a diagnosticare. Andremo a visionare la pagina dei parametri. In molti di questi, come potete notare, è presente un punto di domanda. Cliccandoci sopra il software ci farà vedere il valore che deve avere il componente selezionato. Ora nella pagina delle attivazioni andremo a selezionare la storia del motore. Questa funzionalità è molto utile per capire le effettive ore di lavoro del motore e in che modo il motore è stato utilizzato. Questa procedura e report di stampa è molto utile da consegnare al cliente per far vedere come effettivamente sia lo stato di utilizzo del motore molto utile soprattutto se si è comprato un motore usato. Questa, come altre moltissime funzionalità che potete trovare all'interno della pagina attivazioni, sono solo alcune delle potenzialità offerte dagli strumenti Texa. Grazie anche agli schemi elettrici, bollettini tecnici, procedure controllo presenti nei propri strumenti, Texa permette al meccanico di risolvere più guasti in minor tempo e in modo certo. Con un'eccellente copertura diagnostica, Texa è lo specialista della diagnosi multimarca.